All'AutoGarden Guerrera trovi l'usato come nuovo. Garanzia un anno con Motive Service, soccorso stradale in omaggio, revisione, bollino blu, tagliando in omaggio e passaggio di proprietà compreso nel prezzo. Tutto questo si chiama AutoGarden Guerrera Ramacca. Le auto più belle ai prezzi più bassi della Sicilia. AutoGarden, pagamenti agevolati e personalizzati. AutoGarden Guerrera si trova a Ramacca, telefono 095 79 31 775. Grazie a tutti.